Ciao amici, bentornati. Vedete nelle immagini le produzioni di questi giorni con sole intenso e aria fredda, proveniente probabilmente dai paesi del nord Europa, porta ad avere una produzione molto elevata rispetto alle normali produzioni se ci fossero temperature più alte. Questo l'abbiamo visto già tante volte, abbiamo capito che la produzione è strettamente legata anche al calore. Il calore è un elemento vitale in questi sistemi, ma non solo, in tutti i sistemi elettrici e elettronici, che porta ad avere una variazione dei rendimenti non indifferente, quindi pochi gradi in più significa avere una perdita di rendimento di tutto l'apparato, in questo caso l'impianto fotovoltaico. Tutto l'insieme delle potenze ha una degenerazione importante, infatti oggi vediamo che le temperature sono molto più basse rispetto alla media, proprio da ieri praticamente, e quindi la produzione è fotovoltaica, ma non solo fotovoltaica. Tutti i sistemi elettronici, come dicevo prima, soffrono di questa condizione. Per cui consiglio a tutti i proprietari di impianti fotovoltaici già installati o che eventualmente stanno per installarli o sono in procinto di installarli, di valutare bene questa questione. Cioè controllate che chi vi monta l'impianto tenga ben a riguardo questo discorso del montaggio della zona dove verrà montato l'impianto, perché non è da sottovalutare, non è un elemento secondario. Ricordatevi che l'impianto dovrà durare 30-40 anni, una volta posizionato tendenzialmente si tende a lasciarlo lì e quindi sono poi variazioni che difficilmente verranno fatte. Quindi vi consiglio di far controllare voi stessi, di valutare locale adatto dove dovrà essere posizionato, lasciando lo spazio anche nella parte superiore dell'inverter, perché ci deve essere un ricircolo dell'aria calda, delle alette di raffreddamento, deve poter girare quell'aria, deve poter muoversi, non si deve condensare in un punto e quindi poi provocherà un maggiore surriscaldamento. Cosa causerà questo? Causerà che i sensori sentiranno questo ulteriore riscaldamento e tenderanno a far abbassare la potenza del vostro impianto, voi non ve ne accorgerete, l'impianto inizierà a produrre meno. Lo vedrete acceso, lo vedrete regolarmente in funzione, però non saprete mai che magari sta producendo meno, proprio per il fatto dell'eccessivo calore. Sono cose ovviabili, quindi la prima cosa è ambiente areggiato, possibilmente ventilato, un ambiente non troppo ristretto, non troppo chiuso. Vi do questo piccolo consiglio, insomma, di verificare personalmente tutte queste condizioni. Dovrebbe farlo la ditta che lo monta, però alcune volte pur di fare prima il lavoro, pur di chiudere prima la questione, si tende un po' a decidere magari di posizionarli in una zona non proprio idonea. Poi ne va anche della garanzia, perché in caso di problemi la garanzia ne potrebbe risentire, perché come adesso ripeterò per l'ultima volta, l'elemento temperatura è vitale anche per le batterie, soprattutto per le batterie. Per quanto riguarda le batterie, io non sono un appassionato di grandi discorsi sulle batterie, di carica, scarica. Allora noi dobbiamo mettere questi accumulatori, se li vogliamo mettere, c'è l'utilità per metterli. Se abbiamo deciso di metterli, vorrà dire che dietro c'è stato un pensiero logico o una consulenza professionale che ci ha portato ad acquistarli e quindi installarli. Dopodiché resteranno lì con tutte le loro dinamiche di funzionamento, del quale io non mi preoccuperei più di tanto. Tanto, ripeto, ogni situazione di malfunzionamento verrà evidenziata dall'inverter o addirittura andrà in allarme, quindi possiamo avere tutto sotto controllo. Ma vi siete mai chiesti qual è poi, alla fine dei conti, effettivamente la ragione per la quale il calore ci abbassa la potenza? Cioè perché aumenta il calore e diminuisce la potenza? Qual è questo rapporto esistente tra questi fattori? Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa. Io vorrei da oggi traprendere un'argomentazione un po' più tecnica dei sistemi fotovoltaici, cercando di salire un gradino oltre. Cerchiamo di affrontare anche un discorso da questo punto di vista, un po' più elettrotecnico, partendo proprio da questo, senza tediarvi più di tanto, almeno spero. Il calore è provocato essenzialmente dal fatto che gli elettroni devono muoversi da una parte all'altra. Quindi noi abbiamo questo flusso di elettroni che proviene dai moduli fotovoltaici che vanno all'interno dell'inverter, qui vengono sottoposti a tutto un trattamento particolare, diciamo così, però sono sempre gli stessi elettroni che poi fuori usciranno dall'inverter in un altro modo.